Musica Classe, qualità, grandi nomi della pittura e non solo, in una parola, storia. Da Caravaggio a Bernini e la nuova mostra accolta alle Scuderie del Quirinale è aperta al pubblico fino al 30 luglio. L'esposizione si avvale della presenza di ben 60 opere di Patrimonio Nazionale, l'istituzione pubblica che valorizza il materiale artistico nella disponibilità della corona. Corrisponde ovviamente al 600, il 600 italiano, che è un periodo che la complessissima mappa politica italiana era dominata chiaramente dalla Spagna, poiché c'era il Virreame di Napoli e anche il Milanessado, Milano apparteneva alla corona spagnola. Per cui è interessante comprovare come molte delle opere che sono andate in Spagna sono stati doni diplomatici in realtà, seguiti dai prelati, papi anche, principi italiani che volevano ottenere il favore della corte spagnola. Una mostra capace di evidenziare gli stretti legami politici e culturali costruiti da Italia e Spagna nel corso del XVII secolo. L'approdo nella penisola iberica di opere italiane durante il 600 contribuì a far nascere una scuola nazionale che con Diego Velasquez riuscì poi ad imporsi nella storia dell'arte europea, un meccanismo naturale destinato a creare un fenomeno tanto unico quanto travolgente, un lungo percorso suddiviso in due sale, il numero di capolavori altissimo, come testimoniato da Salome con la testa del Battista di Caravaggio, Il crocifisso del Bernini e la tunica di Giuseppe, grande tela firmata da Velasquez, influenzata da un viaggio in Italia effettuato dall'autore tra il 1629 e il 1630. Ha significato effettivamente un tributo da una parte, ma anche un punto di partenza per il nuovo corso della storia dell'arte molto importante. Lotte e le figlie di Quercino, Giobbe e la grecia di Labano, di José de Ribera, la conversione di Saulo di Guidoreni, meraviglie frutto di genialità e rapporti consolidati al tempo tra i due stati latini.